ed eccoci qui stasera di pizza perché abbiamo appena comprato il divano che dobbiamo scaricare montare quindi ci stiamo prendendo bisogno di un vostro parere abbiamo appena comprato il divano come vedete l'abbiamo caricato sul retro del pick up ora andiamo a casa lo montiamo e fatemi sapere se vi piace intanto sto aspettando tui domani finalmente facciamo la colazione a casa a comprare il latte il caffè già l'abbiamo e basta ma chi è quel musetto lì che si affaccia va bene ora scarichiamo il divano e speriamo che ci stia bene un kit facciamo un patto io ti do da mangiare qualche snack in più e tu non mi mordicchi il divano nuovo va bene e tui apro io o apri tu io ok va bene tu a te l'onore tui intanto abbiamo corrotto il cane dai tui ispiriamo bene guarda non vero l'ora ok allora non dovrebbe essere difficile il montaggio vediamo un po ci penso io va ma il colore è quello giusto e già questa è una buona notizia perché sono abitato che sbagliano sempre ecco qua qui dobbiamo mettere le zampe ok ok ragazzi ho capito cosa devo fare facile datemi un secondo lo monto e ve lo mostro montato bene ce l'abbiamo fatto intanto son kit ha distrutto quello che rimaneva dalla confezione ed eccolo qua a me non dispiace in video non so se rende però il colore particolare è comodissimo super morbido e tra l'altro è bello e tra l'altro si può pure abbassare lo schienale quindi diventa un letto e lui facci vedere come si abbassa vai 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 non lo sfondiamo non lo so non va ok dopo mezz'ora ce l'abbiamo fatta quindi diventa una specie di lettone ok va bene va bene e quindi sì mi piace tanto anche son kit guarda mi piace Rocco? tu devi dire a voi vi piace? sono due ore che provo a spiegare come devi dire mi piace Rocco? vi piace Rocco? no il divano sì vi piace il divano? sì mi piace il divano no no non lo sto chiedendo a te lo sto chiedendo lo devi chiedere a loro vi piace il divano? ci piace ti amo mi piace il divano fateci sapere scusa